Cari amici dell'Eco, buonasera. Riprendiamo il nostro appuntamento con l'attacca a bottone. Rispetto all'operazione condotta ieri sera dai carabinieri della compagnia di Agnone, è stata fermata un'autovettura con a bordo tre soggetti, presuntamente la banda di ladri che ha tentato di mettere in atto dei furti in abitazione nei giorni scorsi ad Agnone, i militari sono riusciti, dopo un inseguimento a piedi in mezzo alle campagne, a mettere le mani su uno di questi soggetti. La persona in questione è stata portata in caserma, dove è rimasta per diverse ore. Rispetto a questa notizia, oggi come ogni giornale che si definisce tale, avremmo voluto fare un ritorno di cronaca, quindi darvi degli aggiornamenti. Questa persona è stata denunciata, arrestata, rimessa in libertà, invece non siamo in grado di farlo. Perché? Perché le forze dell'ordine non ci possono dare questa informazione. Le forze dell'ordine si attengono ovviamente alle leggi e una di queste leggi, che è vigente in Italia, è assolutamente liberticida rispetto alla libertà di stampa e al diritto di essere informati. Si attende quindi un nulla osta della procura competente, che nel caso specifico è evidentemente quella di Isernia. Quindi il procuratore di Isernia, in questo caso, ma anche il procuratore di altre procure della Repubblica, decide quello che esce sul giornale e quello che non esce. Quindi di fatto svolge un'attività di tipo giornalistico. Mentre noi giornalisti, che siamo realmente giornalisti iscritti all'albo, dopo aver superato anche un esame di Stato, ci troviamo nella condizione di attendere le grazie della procura e quindi di passare o meno, cioè di pubblicare o meno, queste veline che arrivano dalla procura. Questa è la situazione della libertà di stampa in Italia. Noi addetti ai lavori già lo sappiamo, già lo sapevamo, ma probabilmente molti dei lettori in queste cose non le sanno. Ecco, poi non ci possiamo lamentare se la situazione della libertà di stampa in Italia ci colloca al 58esimo posto, dopo addirittura il Gambia e il Burkina Faso. Buona serata.